ciao buongiorno benvenuto in un nuovo video della playlist I came for Dummies in uno dei primi video di questa playlist abbiamo visto come legarsi in due incordata quindi abbiamo visto i nodi principali per legarsi incordata in due persone oggi vediamo un altro nodo se incordata ci sono tre o più persone nello specifico si parla del nodo che serve per legare quelli che stanno in mezzo ai capi della cordata come per il passato video anche questo è un video di condivisione della mia passione per la montagna facciamo come se fossimo in un bel rifugio caldo e cominciassimo a parlare delle nostre passioni in questo caso di nodi i passi essenziali di questo nodo che è un bullino semplice in questo caso vengono numerati poi le metto anche in descrizione prendo un metro di corda solitamente dal punto della mano alla spalla opposta faccio una asola distanziatrice comincio a costruire il bullino passando per gli anelli dell'imbrago creo un occhiello ci passo dentro il doppino prendo il capo doppiato e lo infilo dentro il doppino ribalto il nodo questo è un bullino semplice un nodo che tiene a sciogliere quindi prendo un moschettone a ghiera l'attacco all'asola e infine l'attacco all'anello di servizio in questo modo non si può sciogliere l'asola distanziatrice deve rimanere appena sopra il ginocchio se non hai padronanza di queste cose è meglio non avventurarsi anche perché quando arrivi la mattina su un ghiacciaio tutto sembra bello semplice accogliente però le condizioni meteo possono cambiare molto rapidamente ringrazio in anticipo chi commenta sotto questo video e condivide la sua esperienza o fa qualche domanda come sempre un grande abbraccio e buona montagna a tutti a presto a presto